ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie game play ita oggi siamo su tunguska the visitation è un gioco che è su steam già da un po di tempo dal giugno del 2021 e lo potete trovare a 14 euro li vale lo andremo a vedere insieme che cos'è è un survival horror ambientato appunto a tunguska che è una zona della russia dove è successo un evento nel 1908 mi pare nel giugno dove c'è stata una sorta di esplosione esploso un meteorite in cielo insomma o una cometa insomma non si è ben capito e tale fu l'impatto tale fu la luminosità che dissero che fino in europa il cielo fu illuminato a giorno ecco questo è in sintesi quello che che so su tunguska o che perlomeno ho letto è molto particolare come gioco e potrebbe valerne la pena per molti di voi ho saltato ho deciso di saltarvi la parte iniziale dove veniamo accolti dalla nostra adattrice di lavoro noi siamo dei giornalisti e veniamo mandati a tunguska per diciamo spinti da giornalisti fare notizie insomma vendere notizie inedite al pubblico e siamo consapevoli anche che qui tanti si sono arricchiti portando a casa delle medicine che sono in grado di guarire tutto la visuale è isometrica e ci si muove con w sd con q ed e si va a ruotare la visuale e col tasto z si va nella modalità zoom insomma modalità telecamera dove l'inquadratura simile è un po fastidiosa l'inclinazione della camera però vabbè qua vedete il giorno io appena dormito bisogna ricordarsi anche questo l'inventario che se si va a mangiare prima di andare a dormire si va a rigenerare la vita poi ci sono delle delle zone in casa dove è possibile compare la manina o prendere l'oggetto oppure interagire direttamente con il con il mobile premendo il tasto x ci viene segnato tutto quello che è interagibile la cosa interessante davvero molto interessante è il fatto che potete anche attaccare chi volete voi e soprattutto il gioco vanta anche a parte la il ciclo giorno notte anche tutto un sistema tattico di combattimento e calcolate che ci sono anche i silenziatori quindi avete modo di diciamo uccidere silenziosamente ci hanno mandato qui il nostro contatto alla dogana ci hanno fatto passare ma al prezzo di tutti i soldi che avevamo con noi vedete passando sopra abbiamo le varie persone cliccando su il gioco tradotto in russo inglese italiano non so se poi non credo sia un gioco italiano questo quello che ho visto l'uomo sembra anche un non so che di gioco di ruolo e guardate anche l'interfaccia ricorda tantissimo wasteland 2 l'uomo sembra infastidito dalla presenza di novellini come te cosa vuoi qua vedete potete cambiare l'argomento un po questo mi ricorda anche i morrowind i primi elder scrolls dove c'erano i vari argomenti e poi invece parliamoli troviamo abbiamo trovato la porta chiusa puoi aprire la porta per me non puoi passare per ora che non ci lasciano davanti perché se noi vogliamo noi vogliamo sfruttare i novellini come te quindi o paghi per passare lavori per noi finiamo il discorso e troviamo lavoro o ha un altro novellino che cerca di farsi ammazzare senti molta gente mi conosce e non ho voglia di essere sfruttato da tutti i loro amici e se vuoi del lavoro parla con il torsido prima però devo assicurarmi che tu non sia qualche truffatore che va solo a fargli perdere tempo ho un problema di ratti al vecchio mulino quindi se vuoi provare che vale qualcosa vai a risolverlo gli chiedo dove è il vecchio mulino a est del villaggio segui il sentiero il problema di ratti che vuoi sapere è il problema di ratti vai a vedere tu stesso usavamo il vecchio mulino ok ci dice che ci sono delle armi qua cliccando vedete possiamo cambiare argomento andare a fare un'intervista andare a chiedergli di questo posto andare a chiedergli sempre riguardo tunguska pensate che all'inizio vabbè adesso una zona non è new york ci sono mappe segnali stradali nessun segnale gps ascoltate attentamente indicazioni che ti dà la gente e questa è una figata perché vi muovete vecchio stile qua abbiamo il diario con le varie cose da fare raccogliere le varie storie su tunguska e trasmetterle a mary per telefono dobbiamo trovare anche un telefono per comunicare quindi non stiamo parlando di un survival dove partiamo iniziamo e raccogli le fibre raccogli il legno raccogli la pietra non è così tra l'altro pensate che questa porta qui nessuno mi diceva di di aprirla nel senso che all'inizio era chiusa e premendo f l'ho presa a calcio e finché si è aperta all'interno sono riuscito a dormire ho fatto passare la nota perché poi era tutto buio e vedete cliccando qua abbiamo il tavolo da lavoro dove qui vedremo le ricette e vari materiali da crafting che andremo a mettere lì il sistema come dichiarano anche gli sviluppatori è basato un po' su quello che era diablo ma con appunto il peso trasportato massimo adesso dobbiamo andare a qui nella cantina dovrebbero darci anche la luce adesso clicchiamo qui ha ogni tanto qualche punta di legnosità però va bene premendo b accendiamo la torcia torcia che tra l'altro non abbiamo qualità in questa stanza non vediamo nulla apriamo questa porta qui vedete che non ci fa vedere chi c'è dentro fino a quando non l'abbiamo in vista non tiene conto se ce l'abbiamo indietro davanti quello che però dobbiamo essere lì e se noi ci mettiamo qui non abbiamo più nessuna linea visiva come un vero gioco di ruolo se clicchiamo qua secco sei colto di sorpresa dall'apparizione quest'uomo ha una pelle blu e crepata ed un paio di occhi scintillanti questa è una citazione perché si chiama artiom artiom segui per vendere il cibo cibo la visitazione mi ha fatto malare sto morendo mi hanno messo in quarantena ma quel vecchio avaro mi ha solo dato un bucchio di patate non mi resta molto vorrei mangiare del cibo vero prima di morire se ne hai ti darà dei soldi in cambio vedete che il commercio possiamo andare a vendere ma lui non ha sì eccoli qua i soldi che ha sotto arma non ne ho hanno preso la mia arma prima mi sbatta mincella ma c'è un piede di poco nella stanza qui accanto potrebbe esserti utile ok qua c'è una pistola però è un caricatore ha detto che non ne aveva probabilmente non vede più niente lui adesso noi abbiamo vedete questa luce la equipaggiamo and headgear la mettiamo qua e guardate che bello gli effetti di luce sono veramente molto belli io apro la porta e non vedo niente allora primo x x era noi a b accendo la luce vedete che vedo subito il piede di poco lo vado a prendere e lo equipaggiamo subito lo equipaggiamo come arma secondaria sai d'arma e la primaria è questa questa cos'è è un caricatore proiettili 9 milimetri posso trascinando sopra qui l'arma si sta caricando ok allora mettiamo come primaria no sai d'arma mi fa metter solo quello nelle tasche abbiamo questo e qua per scartare vedete non abbiamo altro da poter sì qua posso solo mettere un accessorio adatto per armi qui ok no ma dovremmo mettere solo la pistola vabbè allora teniamo questa poi premendo i tasti 1 2 così possiamo andare equipaggiamo le varie armi adesso la tolgo e dobbiamo andare a cercare il vecchio mulino ci avevano detto che era a destra quindi bisogna fare un po di abitudine ricorda anche un po se venna come come gioco quello stelta quello sul lato insomma ho fatto un video a riguardo se se vi incuriosisce la cosa dobbiamo andare a destra quindi a destra al vecchio mulino non aiuta sicuramente il fatto che ci sia questa visuale così però vedete potete andare a fare tutto quello che volete ho trovato qualcosa aspettate che lo prendo con shift trascinato anche delle pire batterie da un volto e mezzo un po perché qua la sera prima quando sono andato a dormire stavano combattendo qualcuno raccoglio gli ingredienti appena ho ottenuto un ingrediente per la creazione di sieri puoi tenere parti di mutanti dai corpi di mutanti va bene mi vede anche qui cosa c'è hanno ucciso un po di gente io prendo salsicce lasciare granate fuoco in buca fire in the hole ha appena trovato una granata l'armi più potenti della zona per equipaggiarlo hanno slot esplosivi può passare l'armi da lancio con il tasto 3 quindi la mettiamo negli esplosivi ok tool non ne abbiamo abbiamo una pistola e qua vedete anche la nostra carta di identità siamo statunitensi ma abbiamo un nome russo ma probabilmente è la nostra falsa identità adesso dobbiamo trovare il vecchio mulino adesso l'unico modo che abbiamo di salvare è quella di dormire quindi bisogna andare a vedere dove sto cacchio di vecchio mulino il con distorsioni distorsione stare attento alcuni sono visibili dimensioni diverse che oltre al suono vibrante perché ci sono le puoi lanciare un sasso rimuovi quello che hai nello sotto esplosivo per m3 per soluzionare una roccia ci sono delle distorsioni spazio temporali dovute al disastro che è successo qui e questo ci consentirà di morire in tempi verissimi quindi vedremo 3 e lancio il sasso e che lo lancio la ma non capisco dove non capisco neanche dove il vecchio mulino quindi qua con l'acqua cosa posso fare lost in the zone era qua era qua la zona va bene purtroppo non avevo salvato quindi andrò a rifare tutto rapidamente perché vedete che ripartiamo da qui ripartiamo da qui ma lo facciamo anche piuttosto velocemente intanto vado accetto la missione intanto pensate che quando ho visto quando sono arrivato stavo giocando c'è uno in bagno era proprio entrato in bagno sta facendo tutti i suoi suoi bisogni quindi allora fammi vedere vecchio mulino vai a destra del villaggio se vuoi sentire perfetto quello abbiamo fatto andiamo di nuovo di sotto si va bene facciamo velocemente tutto quello che abbiamo fatto così che equipaggiamo questa in testa entriamo qui poi non so fino a che punto si possa rompere rompere il gioco perché è noi tecnicamente potremmo uscire sparare tutti però credo che per esigenze della storia non sia il massimo fare una cosa del genere riparliamo sto tizio arma finisce il discorso cibo va bene cibo non ne abbiamo però gli freghiamo la pistola come abbiamo fatto prima ok andiamo dovrei tornare a dormire e salvare la partita va bene al momento sono abbastanza ottimista comunque il non potremmo vedere tutte le features di questo gioco adesso però la volontà è quella di farvi vedere un pochino come come funziona come gira ed è assolutamente qualcosa di inatteso perché mi era sfuggito ho l'opportunità di provarlo e ringrazio comunque lo sviluppatore ok adesso devo seguire il sentiero dovrei evitare aspettate che devo equipaggiare anche questo perché allora siamo morti lì quindi ma scusate io sono morto andando al pozzo prima ma io come capisco che è una zona inagibile perché il sasso parte via ok ma fino a che punto parte via qua si può andare perché alcune sono visibili altre no devo seguire il sentiero e sono si sente più ok fatemi dire poi in questo colpisco da una parte colpisco dall'altra colpisco destra colpisco sinistra meccanica di chi di combattimento così vediamo se poi magari sono nei casini aspettate un po permetto via può salutare qualcosa no qua è rotto c'è vabbè qua ci sono destrazione vecchio mulino andiamo un chilometro e più di mezz'ora 35 minuti ok non erate il vecchio mulino adesso o cazzo bubbolo è un gioco veramente cattivo è ok il lupo l'abbiamo steso meglio la vita c'è ancora adesso voglio vedere se io metto la pistola se riesco a caricarla sì abbiamo un po di colpi 7 non posso scuoiarlo il lupo sì ma non ho lutto all'interno prendo tutto lupi mutanti no ok quasi mira ma graficamente carino c'è un indi si vede però è carino ha ucciso il lupino vecchio mulino deve tornare avevano detto atti non lupi vabbè eroi di traduzione lo segnalerò comunque ho liberato qua c'è fuoco da campo quindi possiamo accenderlo e vi perseversi comunque abbiamo liberato la zona qua c'è qualcosa c'è un caricatore proiettile addestramento o io li prendo tutti trasferisco tutto vediamo se c'è dell'altro c'è il vecchio mulino che qui c'è un corpo con rubli la pistola la lascio lì adesso sarebbe bello vedere guardate anche tutti i parametri che hanno le armi due colpi duca grazie nonno e questa invece la pmm è un po perché c'è una porta anche qua si incastra con path finding o entriamo sarà una cosa piccolissima guardano infatti o c'è il lavoro che sto facendo vediamo se c'è qualcosa di interagibile la macina richiede semi drozzo fantasma 4 ai facciano la farina così ok si è brutta sta cosa che dobbiamo ok salto giù non abbiamo ricette non abbiamo ancora nulla nulla di nulla di nulla quindi non non possiamo neanche craftare nulla al momento ma diciamo che la cosa che mi ha sorpreso di questo gioco è che mi è sembrato più simile a un gioco di ruolo che è un survival perché mi aspettavo la classica classico gioco dove si comincia e siamo nel nulla invece c'è anche la storia comunque è horror perché poi ci saranno gli ambienti chiusi terrificanti pieni di gente bello anche il fatto che passano le ore comunque con il viaggio non so ancora se c'è la mappa qua vedete premendo es che c'è il menu con tutti i tasti quindi se volete dare un'occhiata sono questi queste le impostazioni questo giocando il dettaglio è massimo in hd insomma adesso dovremmo evitare il ok salve le questioni di energia elevato duro ho consumato molta energia infatti un po di energia l'abbiamo consumata avrei poca energia diminuisce la tua efficacia in combattimento mangia del cibo dormi ok abbiamo preso anche delle salsicce le abbiamo anche sto giro si le avrei date al tizio però ho bisogno di dormire adesso io parlo al tipo qui comunque secondo me a 14 euro non mi risulta neanche in early access quindi vado da lui e gli dico cosa vuoi problema di ratti come sapere lavoro completato mi sono sbarazzato dei topi a mettere tra virgolette per salvare per lavorare ok addio e non so dove sia sida però intanto potremmo fare una cosa di questo tipo io entro qui perché avrei anche il sacco pelo ma se c'è un letto perché no sul tavolo c'è anche altro da mangiare ho preso delle salsicce allora così utilizzo me le mangio recupero energia e poi dormo e dovrebbe dirmi che ho assunto un po di calorie dormo un'ora così il gioco salva esce questa scritta russa qua sotto ma salvo la partita quindi siamo abbastanza tranquilli diamo un'occhiata intorno adesso cosa c'è lo posso parla con chiunque posso prendere anche lui e da parla ci dimmi commercia lui vende proiettili e ogni sparsi non so cosa succederebbe mi piacerebbe provare a rompere il gioco ma c'è un telefono a pagamento operatore chiama meri non facciamo chiamate con una debita ricevente dei pagare 100 rubli in anticipo rifiuto perché non solo 55 verso quelli che ho preso prima quindi dobbiamo andare qua dentro e vediamo cosa c'è qui qui è una ok no ma abita qualcuno qui o no perché vedo che deserta anche sta casa non entro lì perché vedo che non c'è già dentro niente però sembra esserci un ufficio scomodo la visuale ogni tanto ok questo qui è il dottor fido salve signore arriva arriva subito che sono subito da lei trattamento ma certo sono dottore del prodotto posso guardare i buchi di proietti e radiazione non posso fare niente per l'avvelenamento nessuno può fare 250 euro per non ho soldi beh torna quando vuoi il tuo corpo dopo tutto è bastardissimo fare soldi ci sono molti modi per fare soldi nella zona solo stare sul sicuro puoi semplicemente lavorare per me niente combattimenti niente sangue sul lavoro onesto ogni giorno suoi rischiare la pelle per i soldoni allora devi fare il cacciatore ma non penso che tu sia pronto visto che sembri vestiti tutto pronto ma chi sei un giornalista non me ne frega se vuoi stare qui a ton gusto diventare un cacciatore dovrai lavorare per me comunque che lavoro mi offri già mi piace ho tre lavori ma nessuno ha le palle di andare a sbrigarli non posso mandare a raso perché il capo della sicurezza e siamo chiari questi lavori possono fatti secco ma li farai ti dirò ok si va bene primo incarico fuori dal villaggio a sud c'è una cascina dove facciamo crescere patate odiamo mangiarle ma lo usiamo per produrre l'alcol e per la vodka per forza l'alcol è il nostro prodotto principale le licenze dei cacciatore lo pagano bene le licenze devastate che si fanno chiamare legionari ne investono fattorie in mano loro insieme ai distillatori questo ci mette una montagna di merda era dovrei uccidere tutti quei figli ok mi spiace non posso dare armi agli stranieri gli ho chiesto un'arma a meno che non paghino commercio e lui vende anche questo giubbotto tattico che in condizioni 24 32 infatti c'è anche la condizione tranne che delle pistole a quello che ho visto credete con la condizione non c'è non so sapete potrei vendere bella doppietta qui mi piace cavoli le pistole gliele potevo vendere però un agio contatto nome del sito e dottor si da questo è quello che ok devo andare a sud andare sud e affrontare quei tizi di ma ora quello che vorrei capire se io adesso vado a sud dovrebbe essere di qua però io adesso voglio fare un esperimento perché giusto così per per testare perché so che ve lo ve lo chiedete anche voi e magari se comprate il gioco lo fate anche voi io dormo un'ora il gioco salva io equipaggio e sapete già cosa intendo fare la doppietta ricarico la doppietta voglio vedere primo se mi riprendono perché un'arma in mano e secondo finisce detto in faccia a razza il capo della sicurezza non muore non muore in quel caso giustamente perché dopo due colpi così cioè devi morire per forza però va bene dai questo l'abbiamo fatto allora ok allora sud a sud e sbagliato non ho ancora ricette perché le ricette si trovano sotto forma di libera in gioco e quindi avremo modo poi in seguito magari di ottenere per il crafting sud e di là probabilmente di la bisogna andare alla cascina campo di patate vediamo dove ci porta fattore che vecchia chiesa andiamo beh dai poco meno di mezz'ora movimento la fotocamera stai per ingeggiare uno scontro a fuoco sicure di trovare metodo il movimento fotocamera comodo ma abilità disabilitare il movimento della fotocamera nell'opzione forse grandi e impicciolite aiuterà vedere meglio acqua s'avanza furtivi ok tira fuori l'arma ricarica vediamo come funziona è praticamente uno adesso un wasteland in tempo reale zitti zitti stelta quello non mi vede vediamo se abbiamo un modo di attaccare di nascosto ma gli posso parlare riguardo tungosca come argomento parla con serghei qualcosa d'altro ok ma scusate e adesso metto la pistola perché a sto punto non mi è non mi attaccano felix filippo urbanasiano essere che sarà qua dentro peti a bloc capo serghei ok salve intervista io ne ho avuto abbastanza la zona se non avessi perso tutto a causa di quel criminale che si da sai già con mia moglie e miei figli a vivere una bella vita si da un tempo è un luogo prosperoso per tutti siamo nei giornali fesi ci conosci prendiamo letti come di pasti caldi un po come essere a casa tutti i cacciatori si deve adottare la nostra clinica lo pagavamo bene ma adesso non bastano tagliagole peggio un giorno si è reso conto che l'alcol è un bene molto richiesto perché viene usato per produrre i sieri quindi ha cominciato a distillarne di nascosto usando le nostre previste e ha fatto un sacco di soldi cosa pensi avrebbe fatto un uomo cattivo con un sacco di soldi ha creato il suo esercito privato ha simulato un finto ammottilamento ucciso barowski il nostro capo ha preso tutti i soldi ci ha sbattuto fuori da zanna da zanna scaia è molto molto sangue ok campo di patate non sembrano i suoi banditi perché la vuoi per lui meno che tu stia fuori questa storia se tutto quello che è successo che è successo ok no 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 certo certo potreste ritirare dal campo qualche giorno posso tornarsi da dire ah no ok va bene quindi praticamente ora ci troviamo al punto che potremmo pensare questi qui mi sembrano anche abbastanza nel giusto da quello che mi hanno detto perché non mi sembrano cioè mi sembra che i cattivi siano quelli dell'altro villaggio infatti non è che mi ecco però quello che io voglio vedere è ora se io prendo la pistola la punto a lui no il capo è qua vediamo come come si comporta il gioco anche a livello tattico si è bello che scompaiono perché non li vedo più ok è tosto questa si poteva risolvere diversamente comunque 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 ragazzi questo è a tunguska the visitation 13 euro e 99 e è anche in italiano quindi non abbiamo assolutamente da nulla di che lamentarci è un survival ma in realtà mi sembra più un gioco di ruolo per quanto non è di ruolo perché non ci sono magari delle scelte multiple magari ci sono perché potremmo scegliere potremmo scegliere cosa fare ma non c'è la vera e propria progressione del personaggio se non l'evoluzione del dell'inventario dell'armamento sembra anche bello complesso e bello completo calcolando che qui ci sono sindrome t radiazioni capacità cioè ci sono una serie di forza delle braccia insomma ci sono tante tante belle cose quindi ragazzi io vi invito a farmi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo tunguska alla prossima ragazzi e ciao ciao grazie a tutti